Non vi nascondo la mia preoccupazione di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d'Europa, spesso motivate dalla diffidenza e dal timore verso l'altro e il diverso, lo straniero. A parlare Papa Francesco rivolgendosi ieri ai direttori nazionali della Pastorale per i Migranti, riuniti a Roma per l'annuale convegno promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Il servizio. Papa Francesco ribadisce la linea dell'accoglienza nei confronti dei migranti e dei rifugiati, ricordando uno dei principi su cui si fonda la Chiesa, amare Cristo nell'incontro con il prossimo, in particolare nei poveri. E nel ricevere in udienza i direttori nazionali della Pastorale per i Migranti, partecipanti all'incontro promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, riuniti a Roma per l'annuale convegno, il Papa non nasconde la sua preoccupazione davanti ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni del Vecchio Continente. Dinanzi a questi flussi massicci, sottolinea il Pontefice, la Chiesa intende a rimanere fedele alla sua missione, ovvero quella di amare Gesù Cristo, adorarlo e amarlo particolarmente nei più poveri e abbandonati. Tra di essi rientrano certamente i migranti e i rifugiati. Un amore che si manifesta concretamente in tutte le fasi dell'esperienza migratoria, dalla partenza al viaggio, dall'arrivo al ritorno, cosicché tutte le realtà ecclesiali locali situate lungo il tragitto siano protagoniste dell'unica missione, ciascuna, secondo le proprie possibilità. Papa Francesco non nasconde la sua preoccupazione di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d'Europa. Esse sono spesso motivate dalla diffidenza e dal timore verso l'altro, il diverso, lo straniero. Ma ciò che preoccupa maggiormente il Santo Padre è la triste constatazione che le comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e rigetto, giustificate da uno meglio specificato dovere morale di conservare l'identità culturale e religiosa originaria. Al contrario, la Chiesa si è diffusa in tutti i continenti grazie alla migrazione di missionari che erano convinti dell'universalità del messaggio di salvezza di Gesù Cristo destinato agli uomini e alle donne di ogni cultura. Francesco poi confida che nel suo costante ascolto delle chiese particolari in Europa percepisce un profondo disagio di fronte all'arrivo massiccio di migranti e rifugiati. Un disagio che va tuttavia analizzato alla luce di un momento storico segnato da una crisi economica di cui l'Europa porta ancora segni profondi. Disagio, rimarca il Papa, aggravato dalla portata e dalla composizione dei flussi migratori, da una sostanziale impreparazione delle società ospitanti e da politiche nazionali e comunitarie spesso inadeguate. I cristiani dunque hanno il compito di reinterpretare tutto questo, oltre l'immanentismo laicista, anche nella logica della centralità della persona umana creata da Dio, unica e irripetibile.